Ragazzi faccio questo video per ringraziare la mia agenzia grafica di fiducia, da poco più di un anno io mi rivolgo assolutamente per tutto quello che è la mia immagine sul web ma anche per i flyer, cartacei e così via a FlashUp, un'agenzia veramente fighissima che ha migliorato alla grande la mia cosiddetta web reputation perché da poco più di un anno come dicevo qualche secondo fa praticamente ha migliorato tutto quello che sono le mie immagini sul web quindi la mia copertina facebook, la mia immagine profilo, i miei flyer, tutto quello che riguarda per l'appunto le immagini in assoluto, i flyer ma anche l'appellimento delle foto perché va detto che c'è sicuramente anche un lavoro di post produzione fatto in un certo livello dietro tutto quello che è la mia reputazione se così si può dire web e soprattutto reputazione grafica quindi FlashUp assolutamente consigliato da un anno a questa parte io non riesco a farne a meno non faccio più niente sul web o comunque non mi rivolgo più a nessuno sul web che non sia FlashUp quindi se volete un'ottima reputazione su internet, sui vostri social network, sulla vostra immagine grafica, non solo web ma anche cartacea rivolgetevi a FlashUp perché per quanto riguarda la grafica 2D è assolutamente il top ve lo dico io, garanzia di successo ed esperienza perché da poco più di un anno vi ripeto è migliorato tantissimo tutto quello che riguarda sul web per il mio conto grazie FlashUp, ciao